Ce l'abbiamo fatta amici, pensavamo sarebbe stato un gioco, ma invece abbiamo avuto le nostre difficoltà. Vedere 12 maestri di diverse scuole che si sono riunite con così tanto entusiasmo per realizzare questo calendario, mi ha emozionato fin dall'inizio. Siamo diventati un bellissimo gruppo, molto affiatati, bello, veramente bello. Hanno avuto tanto coraggio, penso che un mio di loro abbia dato col suo carattere, con la sua bellezza, con la sua forza, abbia dato qualcosa a questo calendario. Per fortuna e di questo sono molto contenta, siamo un gruppo molto affiatato, sarà anche grazie allo scopo dell'iniziativa. Abbiamo deciso con piacere di devolvere l'intero ricavato delle vendite, sperando che siano tante, alla Fondazione Magica Cleme. Grazie a tutti.